Una stufa a pellet ha preso fuoco questa sera intorno al 19.30 in un'abitazione situata in via Carlo Botta a Castellamonte. I residenti in quel momento erano fuori casa, gli entrati hanno visto le fiamme fuoriuscire dalla zona caldaia e hanno immediatamente chiamato il 115. Sono prontamente intervenute due squadre dei vigili del fuoco volontari di Quarnier, dirottati sul posto mentre stavano ultimando un altro intervento, un soccorso persona andato a buon fine, due squadre dei vigili del fuoco di Ivrea e carrofiamma. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza sono durate circa un'ora e mezza. Grazie a tutti.